il bellissimo chalet mare d'inverno qui da Nazario che ovviamente il grillo famoso d'estate ma d'inverno mare d'inverno è una clip nostra con il grande titolare che veramente ci ha messo l'anima ma questo deriva un po dalla dna dei nonni sì perché io praticamente sono nato qui al grillo ma il grillo esisteva già dal 53 nonno e non aveva aperto si chiamavano raimondo e gina poi dopo negli anni prima era solo la spiaggia poi spiaggia e bar adesso dal 2006 quindi sono 14 gianni che c'è anche il ristorante un livello medio alto diciamo alto no con ottime consulenze abbiamo scoperto sì abbiamo delle ottime consulenze uno chef stellato che ci fa una consulenza settimanale quindi il locale è in buone mani e che cresce continuamente quello che che dovrebbero fare tutti i nostri amici ristoratori delle Marche per la crescita della loro attività e per la garanzia del futuro è così ecco noi abbiamo messo veramente il cuore su questa attività il grillo l'ido di fermo nelle Marche